Ci siamo consultati con tutti, abbiamo assunto la decisione di firmare un'ordinanza che applica alla regione Abruzzo la disciplina contenuta nell'articolo 3 del DPCM, cioè quella delle cosiddette regioni rosse. Marsilio ha deciso, tutto l'Abruzzo sarà zona rossa, tra poco è attesa la firma dell'ordinanza che potrebbe entrare in vigore da mercoledì. Daremo la giornata di domani come momento di transizione, però dalla giornata di mercoledì, ora lasciatemi il tempo di definire i dettagli dell'ordinanza, però quindi molto probabilmente dalla giornata di mercoledì entra in vigore la disciplina delle zone rosse. E nella nostra regione l'indice RT di contagiosità si è abbassato in questi giorni, quindi a pesare a determinare la zona rossa è stata l'efficienza del nostro sistema sanitario e ora è urgente reperire ulteriori posti letto. Non credo che ci sia bisogno di dover spiegare oltremodo quali siano le ragioni, al di là di stare a lottare sui 21 parametri e a lottare per stare magari un centesimo di punto sotto le soglie che possono consentire di restare in zona arancione piuttosto che rossa, noi guardiamo in faccia la realtà e soprattutto ascoltiamo il grido dei medici e dei sanitari e dei pazienti che hanno difficoltà di accedere nei pronto soccorso, nei reparti di terapia intensiva e quindi pensiamo che sia giusto adottare questa misura, per quanto dolorosa, per quanto difficile da sostenere, ma conto sulla comprensione e sulla collaborazione di tutta la popolazione e siamo anche convinti nell'adottare questa misura che prima cominciamo e prima ne usciamo e forse riusciamo a salvare la stagione natalizia. E poi c'è il nodo scuola, al di là del parere della maggioranza del comitato tecnico scientifico abruzzese, il governatore ha deciso che le scuole, da quella dell'infanzia fino alla prima media, rimarranno aperte, così come prevede il DPCM. Però se anche volessimo accogliere la richiesta che a maggioranza il nostro CTS ci ha fatto di chiudere le scuole di ogni ordine e grado, l'attuale disciplina di legge non consentirebbe alle famiglie di avere gli strumenti per poter affrontare questo problema, di avere poi i bambini dentro casa, perché tenendo aperte le attività economiche, non avendo congedi parentali o bonus babysitter, il peso che graverebbe sulle famiglie sarebbe insostenibile. Solleciterò il governo nazionale, ha detto Marsilio, a erogare tutti quegli aiuti economici necessari alla popolazione. La scelta del governo di non permettere, di non consentire i ristori, nel caso in cui le misure non vengano prese dal governo, ma dalle regioni, creava anche una situazione da figli di dio minore, quindi è anche una situazione pericolosa, perché sono certo che altri miei colleghi, ma parlo per me stesso, se ci penso una volta di più ad adottare un provvedimento restrittivo è perché conosco le conseguenze economiche che possono cadere sui nostri cittadini, ma non dovrei avere questa preoccupazione.